Pilota, l'IMC continuerà a cercarci. L'unica speranza di sopravvivenza è raggiungere il Maggiore Henderson a 60 chilometri dalla nostra posizione. Dovremo adattarci e improvvisare per sopravvivere. Wee Wombat 3-2! Stiamo assumendo gravi perdite! Forze della milizia, aiutateci! Abbiamo subito pesanti perdite! C'è un Titan classe Vanguard alleato! EBT! Felizio di vederti! Ci seguirebbe una mano! Titan nemico a terra! Titan Vanguard acquisito! Vedo che ti sei esercitato un po'. Non mi sentirò in corpo a ucciderti. EBT! Titan nemico a terra! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non puoi fuggire, pilota. 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 Con l'equipaggiamento Tone possiamo agganciare i nemici e lanciargli i razzi da ricerca. Sarà utile nel combattimento diretto. Non puoi fuggire, pilota. 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 Non puoi fuggire. Non puoi fuggire, pilota. Non puoi fuggire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pilota. Pilota. Grazie a tutti. 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 Andiamo. Grazie a tutti. Impulso solar attivato. Le pompe dei rifiuti tossici ora filtrano l'impianto sperimentale automatizzato. Cupola 1. Cuidate all'inizio, andatevi dal mare! Contatto, siamo sotto attacco! Dai da milizio! Sapete dov'è? Non lo vedo, non sparate! Occhio, granata! Il lato ha avvizzato! Il lato ha avvizzato! Nel lato ha avvizzato! Sì! Il flusso ci blocca. La via nella struttura. Dovrebbe esserci un pannello di controllo. Controllo manutenzione avviato. Apertura porta di controllo del flusso. Allarmi. Fumi tossici nella stanza principale. Attivazione e isolamento di sicurezza sala di controllo. La camera d'equilibrio di sicurezza ti ha rinchiuso nella sala di controllo. Trova un'altra via d'uscita. Dobbiamo separarci. Separarci? È rischioso. Date le terribili circostanze, è un rischio che vale la pena correre. Pilota, sto seguendo i tuoi movimenti. Ti consiglio di cercare un'uscita. Ricevuto, BT. Vale anche per te. Ricevuto. Grazie a tutti. 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 Ascoltate. Qui è Kane. Quello che abbiamo qui, miei cari amici degli IMC e della milizia, è un fallimento della comunicazione. E va bene. Va bene. Va tutto benissimo. Chi era? Accesso ai file. Kane. Un mercenario affiliato ai predatori Apex. Noto utilizzatore e spacciatore di narcotici. eri. Autore dei sottotitoli. No, no, no. Non riesco a mirare, fuori visuale! Lo vedete? Negativo, non lo vedo. Qualcuno da gestare? Infandete! Granata sul fianco! Movimento! Il pilota ha vittato, fuori visuale! Non deve scappare, fuoco! A tutti i membri della milizia rimasti nella struttura, sappiate che qui comando io. Potete rimanere fino a quando non vi ucciderò. Cosa che accadrà molto presto. Aspettare il movimento! Aspettare il movimento! Un consiglio! Mi sono aspettato, a termine tu passo! Vedete il movimento! No, no, no. La mia squadra è staccata, sono solo! Qui, Raccoon 3, non a flotta della milizia! Siamo bloccati nell'impianto di drenaggio! Le MC è una nuova batteria meccanizzata! Siamo in trappola! Pilota, rilevo delle forze alleate della milizia sulla tua rotta. Forse hanno bisogno d'aiuto. Pilota, rilevo delle forze alleate della milizia sulla tua rotta. Forse hanno bisogno d'aiuto. Capitano, qualcosa si muove tra i dubbi! Occhi aperti! È un pilota alleato! Capitano, abbiamo un pilota della milizia! Lo sparate, è dell'ASRS! Guardate il casco! È bello vedere un pilota alleato. La nostra squadra le ha prese. Lato avanti serve una mano! Questa dovrebbe sistemare quegli scopi. Questa dovrebbe sistemare quegli scopi. Grazie a tutti! 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 Aiuto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!